ebbene ragazzi ragazzi video da frambow e oggi ragazzi una mappa che hanno fatto quasi tutti youtuber come lion complessor faremo aspetta che no ciao elenna ragazzi io sono come sorella il campeggio e cominciamo a fare la mappa ok ragazzi siamo in campeggio non la legna non so l'inglese ragazzi in un rosso mi spiace ok ragazzi andiamo a vedere cosa dobbiamo fare inseriremo le cose della legna del legno ragazzi mi trovo del legno no ragazzi cos'è cosi ragazzi niente da fare non trovo il foglio ragazzi ragazzi il foglio il foglio andiamo da qua ragazzi ok ragazzi ben tornati sto a fare una cosa ragazzi l'ha iniziata raccolta però ragazzi niente da fare della legna della legna della legna della legna ok inizio è notte è notte è notte andiamo rimaniamo ok dormiamo è un altro giorno ok è notte io mi allontano però che so benissimo che arriverà il mostro sarà il mostro ragazzo la mente che la caspia è iniziata con la luminosità la pari visto il mostro ecco scappiamo ragazzi non ci sboli scappiamo scappiamo ragazzi scappiamo io scappo da quello io scappo da quello allora siamo giudici da caverna come si vede siamo giudici da caverna da che vento è uno di recuperare la cestina del cibo certo no, non ci vado eh, tu puoi andare, c'è un ombrello, vai c'è un ombrello, vai, cretina vai, c'è un ombrello è faiiii ragazzi che sei che non volentare non volentare, vai molti ragazzi non volentare ragazzi non volentare non volentare non volentare ragazzi non volentare fai ragazzi è andata sta passando la notte e siamo qua hanno distrutto hanno investito una tenta ragazzi non volentare ragazzi è andata in un attro è e guardate ragazzi non volentare per 13 meno c'è un martello ragazzi ragazzi non c'è ragà il trono della trappole per la notte ma perché ci sono un cielo ragazzi il secondo anno non so la prana si scazzò la testa ho capito che si è capito sono un'altra notte di quale trappole dell'orso ragazzi ma che ti erano una trappole per orsi questo per tutti secondo episodio arriviamo ai 10 mi piace